Tauci, discoteche chiuse fino al 31 gennaio, molti cenoni a rischio, torna l'emergenza sanitaria e alcuni imprenditori tornano a chiedere i ristori? Assolutamente sì, perché il fatto che si debba puntare il dito solo su alcune categorie, è naturale che quelle categorie si sentano tornare indietro innanzitutto di un anno, ma a questo punto hanno bisogno di un ristoro che non sia però quello degli anni precedenti, perché fortunatamente tutto il resto si sta muovendo, le discoteche e la ristorazione che quasi sicuramente avrà una fase di stop, di rallentamento per il capodanno, subisce un danno economico importantissimo in un momento in cui tutti quanti incominciavano a pensare ad una piccola ripresa. Nella ristorazione questi giorni sono giorni in cui si incassa e si producono quegli utili che servono per reggere le aziende, così come per l'abbigliamento e il saldo piuttosto che altri momenti. Quindi bruciare il fatturato del capodanno significa bruciare un'economia che serve poi per mantenere un'impresa. Non solo le aziende che purtroppo avranno questo problema, saranno anche i lavoratori che subiranno eventualmente ulteriore cassa integrazione o in alcuni casi lì dove ci sono le condizioni di una riduzione di posti di lavoro, perché quest'altalena, questo movimento su e giù della possibilità di fare e di non fare crea grande incertezza. Molte attività hanno deciso di non fare il veglione, questo significa dover riparametrare completamente la propria attività e i propri utili. Altri forse penseranno di annullarlo, quindi il danno economico è importante.